Siamo riusciti a prendere un po' di margine e abbiamo mantenuto di credo 4-5 punti fino a quasi la fine del quarto quarto dove negli ultimi due minuti con qualche... Marchio Vigar 2, che significa? Significa sicurezza sulle strade dei nostri clienti I servizi? I servizi facciamo gommista, facciamo meccatronica, climatizzazione, assistenza diciamo, un bel pezzo di fetta per i nostri clienti insomma, cerchiamo di impegnarsi per portare avanti con serietà tutto il nostro lavoro Allora, in diretta a Sport a Km0 Basket, buon basket a tutti Daniele Rossi, potremmo definirti l'MVP, sei un ragazzo molto pagato come hai visto la partita? Ciao Massimo, senti la partita, è stata una partita difficile sia perché essendo un derby non è facile giocare queste partite sia perché questi due punti in palio erano importanti per tutte e due le squadre siamo entrati piuttosto contratti in campo, soprattutto in difesa nel secondo quarto un po' meglio anche se negli ultimi due minuti abbiamo preso un parziale di 12 a 2 tra l'altro con una tripla di Montevarchi allo scadere siamo andati negli spogliatori sul 34 pari nel terzo quarto siamo rientrati comunque meglio in difesa in attacco non abbiamo trovato canestri semplici è stata una partita molto fisica, punteggio basso e siamo riusciti a prendere un po' di margine e abbiamo mantenuto di credo 4-5 punti fino a quasi la fine del quarto quarto dove negli ultimi due minuti con qualche canestro diciamo costruito in più e una buona difesa abbiamo incrementato e siamo riusciti a portare a casa la partita abbiamo vinto alla fine di 11 anche se in realtà fino agli ultimi due minuti Montevarchi è sempre rimasta lì e niente, sono due punti molto importanti per la classifica e ora mercoledì ci aspetta Lucca che non sarà per niente una partita semplice e niente Massimo ti saluto e buon basket a tutti